Venerdì, recap Eh sì amici di Metal.it, è di nuovo venerdì, è di nuovo tempo di recap La settimana scorsa, vista la penuria di news che poi alla fine mi ha portato a parlare unicamente di Lords of Chaos Fra l'altro un video recap che vi è piaciuto molto, ha realizzato quasi se non sbaglio 3500 visualizzazioni La nostra media è molto più bassa, sono molto contento anche perché ci sono stati tanti commenti E diciamo tantissimi pollici in su ma comunque anche chi non è stato d'accordo con la mia visione Ha espresso tranquillamente i suoi punti di vista, ci siamo scambiati, insomma devo dire che è andata molto bene E fra l'altro questo video ci ha portato quasi 100 nuovi iscritti, un solo video Insomma quando di solito ci mettiamo tipo tre mesi a raccoglierne così tanti Quindi benvenuto a tutti i nuovi e vediamo subito le 5 news della settimana Invece questa settimana come dicevo ce ne sono state talmente tante che ho dovuto veramente sforbiciare La settimana in cui fra l'altro è stata un po' sconvolta se vogliamo dalla morte di Keith Flint Il cantante dei prodigi che a 49 anni è morto La notizia nelle prime ore è stata questa poi addirittura si è scoperto che invece si è trattato di suicidio Insomma un altro personaggio del mondo a 360 gradi e rock comunque alternativo che si è tolto la vita In questa stessa settimana nel 1986 usciva Master of Puppets Dei Metallica ovviamente uno dei loro album più amati e famosi Ne ha approfittato per farne un tweet Kirk Hammett che ha dichiarato appunto nel proprio tweet Che le sue canzoni preferite di quell'album sono Orion e The Thing That Should Not Be Le vostre quali sono? Personalmente avrei scelto la title track appunto Master of Puppets o forse Welcome Home Sanitarium Ma comunque va bene lo stesso perché da quell'album peschiamo solamente in maniera ottimale Andiamo avanti con la quarta news riguarda uno dei gruppi che sento nominare in maniera sempre diversa Watain, 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 veramente in tutti i modi Vabbè parliamo ovviamente di loro Black Metal Arts che dovevano suonare a Singapore poche ore fa Anche con il fuso orario di mezzo Gli è stato impedito di farlo Lì per lì il concerto era stato autorizzato per un pubblico di soli maggiorenni Poi c'è stato il diktat del Ministero degli Interni di Singapore appunto Che ne ha vietato lo svolgimento poiché il loro concerto avrebbe potuto insultare la religione Nonostante la band sia stata accusata insomma di Accusata insomma alla fine più o meno è vero perché di satanismo comunque di idee anticristiane Il cristianesimo non è assolutamente la religione prioritaria in Singapore Insomma il buddismo è la religione, il credo, la fede è largamente più diffusa In ogni caso il concerto è stato autorizzato con buona pace dei Watain Che dovranno andare a suonare da qualche altra parte Un altro artista di cui parliamo spesso e che sarà sicuramente scontento È Tim Ripper Owen Se vi ricordate se non sbaglio un paio di recap fa abbiamo parlato proprio di lui Che insomma si lamentava per il fatto che non si riuscisse a trovare da qualche parte Da nessuna parte Jugolator e Demolition dei dischi che lui ha realizzato con i Judas Priest Addirittura offrendosi di ristamparli insomma di sua sponte La faccenda non sta prendendo esattamente la piega desiderata da Ripper Infatti praticamente è stato contattato dal management dei Judas Priest appunto Che gli ha intimato di smettere di non usare più l'immagine di questi due album Per le proprie poster, per le proprie locandine promozionali Anzi addirittura deve evitare di eccitare i Judas Priest Di far comparire logo o scritte varie che facciano riferimento ai Judas Priest Ripper si è detto piuttosto scioccato dalla cosa Ma comunque obbedirà perché lui ama i Judas Priest Insomma a chi tocca non se ingrugna Eh sì povero Ripper avrà sicuramente dovuto far buon viso a cattivo gioco Chi invece assolutamente non riuscirà a farlo sarà Joy Gaidos Jr E chi è direte voi in effetti veramente un misconosciuto Se non che magari avrete visto qualche anno fa il film School of Rock Ve lo ricorderete che è il film con Jack Black dei Tenacious D Che appunto si improvvisava a professore in un colno Insomma in una scuola per bimbi ricchi fra l'altro E lì portava a suonare hard rock barra heavy metal John Gaido, Joe Gaides Jr Non era altro che quello lì, quello sfigatino con la faccia tonta Che saunava la chitarra Ovviamente poi è scomparso dai riflettori Adesso lo ritroviamo 28enne Che se ne va per negozi di dischi Negozi di dischi, negozi di chitarre a rubarle Praticamente è apparso in un video di registrazione di un negozio Mentre fa finta di provare una chitarra E poi tranquillamente se ne esce fuori dal locale cercando di fuggire Poi lo ritroviamo in pose assolutamente ridicole Con tipo la chitarra infilata nei pantaloni Ovviamente è stato accusato di furto e di taccheggio Lui si è difeso dicendo che era sotto effetto di stupefacenti Insomma un'altra vittima di Hollywood Ma indubbiamente la scena è stata rubata totalmente da Richard Christie Che si segnala non solo per la news della settimana Ma vorrei dire per la news dell'anno In base ovviamente a idiozia Richard Christie Che il più di voi conosceranno che essere stato il batterista di Death Ad esempio in The Sound of Perseverance Ma non solo Ritroviamo anche in Control The Night e Eyes and Earth Tanto per dire Un gran batterista Benché qualche volta lo abbia visto dal vivo Non così fenomenale Così come facevano presagire le prestazioni in studio Vabbè stavolta si è veramente superato Poiché all'Hour Stern Show Un famoso show statunitense Ha dichiarato di essere un ottimo sommelier E ha voluto mettersi alla prova con tre bottiglie di vino Una da 8, una da 80 e una da 800 dollari Pensate un po' Ma anziché assaggiarle come qualsiasi sommelier farebbe Nel mondo civile e cristiano Con la bocca Le ha assaggiate con il culo Insomma si è messo giù per terra con il culo a pecorina E si è fatto infilare nel sedere questo vino Ahimè che spreco Il risultato oltre ad essere piuttosto inverosimile Secondo me piuttosto anche vergognoso È stato anche insoddisfacente Poiché il buon Christie non ha saputo minimamente ordinare Riconoscere le bottiglie Né ordinarle in base al loro valore Io resto a dir poco basito da una cosa del genere Non me ne tange assolutamente nulla Un po' perché non mi interessa nulla di Christie E un po' perché lo devo dire Ho visto qualche commento in giro Dicendo non riuscirò più ad ascoltare The Sound of Perseverance Allo stesso modo È l'unico disco che dei Death non mi piace Io sono molto oltransista in questo I Death sono quelli dei primi dischi Quelli in cui mi riconosco maggiormente Arrivo fino a Symbolic Ma poi lì mi fermo The Sound of Perseverance Addirittura è un disco cantato in maniera diversa Non in growl Insomma per me non è un disco dei Death Ma sicuramente come leggo sempre in giro È un disco che non dico che arrivi in cima alle preferenze Ma poco ci manca Magari è anche il vostro disco preferito Fatecelo sapere Va bene insomma news abbastanza bislacche, curiose e divertenti Prepariamoci a una invasione invece di dischi in questo weekend Per una lista completa di praticamente quasi tutti Andate sul nostro canale di Instagram Perché il buon Citro ci ha preparato tutta una bella lista Che vedrete oggi insomma da stamattina la vedete su Instagram Io andrò a citare un po' i più famosi O comunque i più interessanti Mentre il mio telefono squilla a tutto andare Vado proprio a leggere dalla sua lista Dischi in uscita diciamo forse il più importante Il più famoso, il più discusso Sarà quello dei Children of Bodom Esce X Sarà ovviamente Melodic Parliamo di Melodic Death Metal Esce per Nucle Blast Abbiamo fatto la video recensione Anzi la recensione doppia Perché c'è la video recensione di Frank Ma c'è anche la recensione normale Insomma testuale del nostro Defender Andiamo avanti Nuovo disco dei Tesla Si chiama Shock Ovviamente fanno Hard Rock Li conoscerete tutti Abbiamo un nuovo disco Da me recensito Nei prossimi giorni No, magari un po' troppo Nelle prossime ore Iron Savior Kill or Get Killed Come al solito Power Metal Per AFM Records Abbiamo anche Misery Index Come al solito Un disco Esce per Season of Mist Esce oggi Ce l'hanno mandato ieri Il titolo è Rituals of Power Un altro disco Atteso Da molti Purtroppo io li ho un po' Persi di vista Ma no perché non li stia più seguendo Solamente perché mi stanno un po' deludendo Negli ultimi album No che facciano dischi brutti Ma insomma La parentesi Geniale Diciamo così E ahimè finita Per i Tear Gruppo Faroese Quindi delle Faroer Nuovo album Hell Esce come al solito Per Metal Blade Un disco Insomma così così Soddisfacente Ma non troppo Terminiamo questa rassegna Un po' stringata Come detto per la lista completa Andate sul nostro canale Instagram Con due gruppi italiani Abbiamo i Folkestone Con Diario di un Ultimo Che insomma Se lo autoproducono Se lo autopubblicano loro Diciamo A metà fra Folk e Death Metal Mentre i Skeleton Nerd Metal Qualcuno direbbe Ma insomma Si tratta di Power Metal Dedicato al grandioso film I Goonies Escono con Day Never Say Die Per Scarlet Records E anche per quanto riguarda I concerti Non possiamo lamentarci Assolutamente Gran bei concerti Grandi nomi Iniziamo subito Prendendo il mio Mini Tablet Stasera Venerdì 8 Marzo Abbiamo Overkill Destruction Flotsam and Gersam In zona Roveri A Bologna Insomma Veramente gran concerto Che troviamo Anche domani Sabato 9 Marzo In quel Del Fenomenon Di Novara Mentre per tutti Gli amanti Del Progressive Abbiamo gli Aken Che suoneranno A Milano Ai magazzini generali Lunedì 11 Marzo Ci diamo assolutamente Al Folk Folk Metal Con Corpi Clani Turisas E Trollfest Suonano a Live Di Trezzo Mentre martedì 12 Abbiamo i Rhapsody Of Fire Quelli insomma Di 8 Mountain Con Giacomo Voli E Alex Staropoli Suoneranno A Legend Di Milano Appunto come detto Martedì 12 Mentre mercoledì 13 Suoneranno Alla zona Roveri Di Bologna Terminiamo La carrellata Con due date Ma sono solamente Le prime due Poi le prossime Le vedremo Nel successivo recap Abbiamo Il ritorno Sul nostro suolo Dei Pestilence Del grande Mitico Patrick Mameli Ormai potremmo dire Abbiamo La data Di punto mercoledì 13 Al revolver di Sandona di Piave In provincia Di Venezia E li troviamo Giovedì 14 A Roma Qui a Roma Dove sono io Al traffic E insomma Speriamo di andarci Queste sono date Organizzate da Neil Production Terminiamo Questa rassegna Li abbiamo trovati Prima presentando Il disco in uscita Questo appunto È il release party Dei Skeleton Con The Never Say Die Il release party Si svolgerà A Legend Di Milano Suoneranno Insomma insieme a Idomi Quindi sarà ovviamente Un ottimo concerto Ci sarà anche Alle Conti Ivan Castelli De Lion's Soul Insomma veramente Una bella festa Che chiuderà La settimana Ci vediamo poi ovviamente Per la prossima Con il prossimo recap Quindi se vi è piaciuto il video Come al solito Non dimenticate di mettere Un pollicione in su E iscrivetevi al canale Fa molta poca fatica Ma per noi è molto molto importante Crescere con i numeri E aumentare la nostra visibilità E vi ringraziamo Per tutto quello che avete fatto Negli ultimi mesi Ovviamente soprattutto Non dimenticate di attivare La campanellina Per ricevere tutte le nostre notifiche A breve arriveranno altri video Non solo recensioni Ne sono in preparazione alcune Abbiamo anche delle super classifiche Del passato Tra cui Come è detta Quella dei Sepultura E quella dedicata al Trash Metal Ricordatevi Ricordatevi Di seguirci in tutte le nostre Declinazioni social Facebook Twitter Instagram E Teclan Per rimanere sempre aggiornati 24 ore su 24 Vi ringrazio come al solito Stay drunk Stay Friday Stay Metal Godetevi il weekend E state sempre con la gloria Di Metal.it Ciao Ciao